L'educazione finanziaria serve tantissimo agli italiani, basta pensare all'esempio delle crisi bancarie, quanti italiani sono stati danneggiati o quantomeno minacciati, sfiorati da bancarotte vere e proprie o comunque dissesti bancari, quindi un tema attualissimo, anche drammatico oserei dire, c'è bisogno di saperne di più perché altrimenti siamo indifesi, vulnerabili in una delle risorse che ci rimangono che è il risparmio, poco, sempre troppo poco, però guai a dilapidarlo. Ma anch'io risparmi non ne ho molti, però devo cercare di usarli al meglio, di non distruggerli e nonostante abbia una preparazione economica, ho fatto la Bocconi, non l'ho finita, non mi sono laureato, però l'ho studiata tanto, l'economia è una mia passione, eppure mi sento anch'io indifeso e vivendo in America ho vissuto la grande crisi del 2008-2009, tracollo di tutte le borse, e anch'io ho spesso percepito in modo acuto il bisogno di saperne di più, di essere più informato sui rischi soprattutto. I Beatles io li ho usati per cercare di spiegare l'economia in modo più divertente, anche più soave di quello che è noto e che è un po' dissuasivo, quindi ho usato le loro canzoni, anche la loro storia personale. Loro non sapevano quasi nulla di economia, erano molto ignoranti, hanno studiato pochissimo, sapevano tutto della musica, erano dei geni musicali. L'unico che ha avuto qualche percezione di buonsenso era George Harrison, figlio di un guidatore di autobus, che a un certo punto ha scritto una canzone denunciando il fisco e quello che le tasse gli portavano via delle loro royalties, ma come uomini d'affari sono stati disastrosi, letteralmente, hanno passato gran parte della loro vita a rincorrere il copyright, il diritto d'autore che avevano ceduto in modo dissennato ad altri, quindi non li uso tanto come dei maestri, ma semmai come degli esempi da cui tentare di imparare qualcosa. E poi soprattutto quello che a me interessa è che la storia dei Beatles si colloca in un luogo della nostra storia, gli anni 60 e gli anni 70, che sono in qualche modo l'ultima età dell'oro del capitalismo occidentale. Quindi ho usato i Beatles per riflettere sul perché l'economia era più sana in quel periodo, cosa c'era di profondamente diverso nella nostra economia degli anni 60 e degli anni 70 e perché oggi invece viviamo questa specie di stagnazione secolare.